C'è stato un periodo piuttosto infame nella mia vita precedente che ogni volta che mi innamoravo di una ragazza, a un certo punto, ineluttabilmente, lei mi diceva, no, guarda sei un ragazzo dolcissimo, sei proprio una bella persona, ti meriti veramente di trovare una ragazza che ti meriti, che la meriti, che ti meriti, che vi meritiate. Ti voglio tanto bene, ma ti vedo come un amico speciale. E poi a me piace Fernando. Fernando è un nome di fantasia. Oggi come oggi, quando una ragazza che mi innamoro mi dice una di queste tre parole chiave. Bella persona. Amico. Fernando. Prima che io sia riuscito a stamparle un bacio sulle sue labbra squisite, faccio un inchino, faccio la riverenza, le sorrido e dico, scusi signorina, no. Credo ci sia stato un errore in questo pazzo sistema del cazzo. Dunque la saluto e le auguro tantissime bellissime cose. Porti i miei omaggi al dottor Fernando. E scompaia subito dal mio raggio d'azione visivo, uditivo, tattile, olfattivo. Per il resto della mia vita, grazie. Poi torno a casa, bestemmi un quarto d'ora, metto su la musica, mi faccio un bagno caldo, spengo tutto, dormo.